La Terra impiega 365 giorni e 6 ore per percorrere un giro completo intorno al Sole. È quello che tecnicamente viene chiamato anno sidereo. Le 6 ore in più sostanzialmente sono la ragione per cui ogni 4 anni abbiamo un anno bisestile. Ma questa definizione dà un po' l'idea che ogni anno ripetutamente la Terra si venga a ritrovare esattamente nella stessa posizione. Tuttavia così come la Luna orbita intorno alla Terra e la Terra orbita intorno al Sole, anche il Sole ha una sua orbita, attorno al centro della nostra galassia, circa 25.000 anni luce di distanza da noi. Per percorrere un giro completo il Sole impiega tra i 200 e i 250 milioni di anni e questo periodo è quello che viene chiamato anno galattico. Considerato che il Sole si è formato circa 5 miliardi di anni fa, questo vuol dire che il Sole ha completato tra le 20 e le 25 orbite intorno al centro della galassia. E sì, fa uno strano effetto pensare che il Sole sia sostanzialmente un ventenne. Se questo vi fa pensare che il Sole sia estremamente lento, beh, siete un po' fuoristrada, perché di fatto il Sole si muove all'interno della nostra galassia ad una velocità di 250 km al secondo. Questo vuol dire che percorrerai la tratta tra Milano e Trieste in meno di due secondi, invece che in quattro ore, come faccio di solito. E anzi, durante l'anno sidereo la Terra percorre quasi un miliardo di chilometri nel suo viaggio intorno al Sole, mentre il Sole nello stesso periodo di tempo percorre circa 7 miliardi e mezzo di chilometri. Con le giuste proporzioni è come avere una giostra che ha 15 metri di diametro che compie un giro completo in circa 15 secondi e che si muove a circa 80 km orali. Quindi non direi che sia proprio così lento il Sole, ma non finisce qui, perché in realtà la nostra galassia si muove rispetto al fondo cosmico a microonde ad una velocità di oltre 500 km al secondo. Quindi credete ancora che la Terra ogni anno si venga a ritrovare nella stessa posizione? Beh, dal canto mio vi dico che se avete l'impressione di stare girando a vuoto senza meta, provate a guardare le cose un po' più in grande. Potreste accorgervi che in realtà vi state muovendo più velocemente di quanto non sempre. Ma dov'è che si esce qua? Buongiorno!